Benvenuti al Puglia. Siamo pronti anche per questa puntata ad approfondire temi politici, soprattutto amministrativi, con i consiglieri regionali che andiamo a conoscere, Andrea Lignani Marchesani dei Fratelli d'Italia, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e Oliviero Dottorini dell'IDV e presidente della prima commissione consigliare. Benvenuti, allora partiamo con un tema che scrive le prime pagine dei giornali che è quello dell'economia e il lavoro, come tutti i giorni scopriamo nuove vertenze. Di recente si parla giornalmente proprio di questa problematica, ma anche di soluzioni più o meno realizzabili, ma poi i dati che emergono continuano a rappresentare una realtà drammatica in Italia e anche in Umbria. Che fare, dottorini? Beh, guardi, il problema economico è sulla bocca di tutti, ma le soluzioni appaiono quantomeno carenti e inadeguate. Noi vediamo questa crisi che colpisce anche la nostra regione, ma soprattutto dal livello centrale, ma anche a livello locale, si fa difficoltà a intervenire. Le soluzioni che vengono proposte sono sempre di ordine finanziario e rispondono sempre a esigenze che quasi mai hanno a che vedere con la realtà concreta delle persone. E' mia opinione che ad esempio l'Umbria per troppo tempo abbia puntato su settori maturi, anzi direi quasi superati, penso ad esempio a tutti gli investimenti, a tutte le politiche a favore del cemento, quanto ha rappresentato per questa regione il terremoto nel Folignate, e quante economie, quanto PIL si sia fatto dietro a quell'intervento, tant'è che qualcuno ha detto che occorrerebbe che arrivassero altri terremoti, ma è chiaro che non si può ragionare così. Occorre pensare a una svolta che sia strutturale e che non riguardi appunto settori che ormai sono maturi, penso anche all'agricoltura. C'è una sensibilità che sta emergendo forte nei consumatori, che chiedono cibi sempre più sicuri, cibi biologici, cibi di qualità. E' possibile che l'Umbria, che avrebbe tutte le caratteristiche per intercettare questa domanda che ormai non è più settoriale, continui a puntare su settori che sono ormai maturi, di agricoltura convenzionale, di agricoltura intensiva, una regione piccola e con scarsi territori agricoli a disposizione? Sono tutte domande a cui andrebbe data una risposta, piuttosto che intervenire con dei pagliativi, per cui si danno 80 euro in più in busta paga, che poi si scopre però non hanno effetti sull'economia reale. La constatazione è quella che negli ultimi anni, verrebbe da dire nell'ultimo decennio, si sia cessato di parlare di politica e di economia reale, di politiche industriali, di politiche agricole, di politiche energetiche, per puntare tutto sui grandi fenomeni della economia e della finanziarizzazione dell'economia. Questo è un errore, ripeto, o si riparte dalle caratteristiche e dalle peculiarità dell'Umbria per immaginare un futuro d'avanguardia e duraturo, oppure si tornerà sui settori che ormai sono maturi, che hanno dimostrato tutte le loro debolezze sulla zootecnia intensiva, sull'agricoltura intensiva, mentre invece sono altre le strade da sperimentare. In altri settori, dice questo, Dottorini, lasciare magari tutti quegli investimenti tradizionali in Umbria per appuntare verso nuovi traguardi. Lignani, cosa ne pensi? Guardi, io perdono al collega Dottorini di aver sforato abbondantemente il tempo, perché capisco che si deve arrampicare un po' sugli specchi, che essendo ormai un anziano consigliere di maggioranza, da anni che magari lui vuole fare la coscienza critica, ma delle due l'una, o il suo impatto non è stato sufficientemente positivo, e conseguentemente dovremmo prendere delle conseguenze, in tal senso appunto prendere le distanze da una maggioranza che fa l'esatto contrario di quello che lui sostiene. E' una cosa che poi dico col sorriso e amichevolmente, ma per favore io non ti ho interrotto. Resta il problema che invece da un punto di vista più generale bisogna anche prendere atto di alcune questioni. Io su molte situazioni che il collega ha enunciato sono anche d'accordo, certamente il futuro non può che essere la peculiarità della nostra regione, la nostra regione com'è nell'immaginario collettivo del globo, perché ormai siamo in un villaggio globale, sicuramente agroalimentare, sicuramente turismo, sicuramente cultura, e su questo va indubbiamente investito. Però dobbiamo anche abbassare un attimo gli orizzonti e capire cosa di concreto noi possiamo fare nell'immediato, perché non basta fare tavoli di concertazione, non basta protestare contro le ennesime chiusure che i grandi gruppi industriali minacciano, paventano i numeri e talvolta lo fanno. Pensiamo alle grandi aree di crisi dell'Ugubino Gualdese e del Ternano, ma pensiamo anche alle piccole realtà che chiudono ogni giorno e che non fanno notizia, che buttano in mezzo alla strada un sacco di gente. Allora, nell'immediato, nel piccolo, cosa fare? C'è questa partita che non deve essere vista come il mantra che risolve tutto, sto parlando dei fondi europei, ma bisogna fare in modo che questo settennato, questi fondi, non è che vengano spesi tutti, come si sciacqua la bocca spesso e volentieri la Presidente dei Marini, ma devono essere spesi bene. I numeri non mentono e i numeri dicono una cosa, che tutti i macroparametri socio-economici della Regione dell'Umbra negli ultimi dieci anni sono calati non solo in assoluto, il che può essere normale, perché purtroppo la crisi globale ha fatto calare i parametri di tutti quanti, ma anche relativamente ad altre regioni d'Italia. Significa che questi fondi sono stati spesi molto male, perché se hanno fatto abbassare i parametri economico-sociali della Regione, disoccupazione, prodotto interno lordo, valore aggiunto, significa che sono stati spesi in maniera clientelare e non per creare una rete di sviluppo. Su questo bisogna intervenire, perché non è più tempo di clientela politica, ma è tempo di centellinare virtuosamente le risorse per darle verso lo sviluppo. Su questo ci dobbiamo impegnare, non tanto come opposizione o come maggioranza, ma come soggetti che hanno avuto un mandato di essere classe dirigente di questa Regione e questo deve essere una risposta globale che deve essere data. Abbiamo risabilito quindi i tempi, tre minuti di risposta e si può replicare. No, è solo per dire a Lignani che purtroppo sui fondamentali, sulle scelte di fondo di questa Regione, il Governo e l'opposizione sono andati sempre a braccetto. Penso alle politiche agricole, penso alle politiche industriali, penso alle politiche infrastrutturali, quando, e anche alle politiche ambientali, quando c'è stato da votare per un inceneritore, per l'Ai45 autostrada, per il tabacco in agricoltura, il voto dell'opposizione non è mai mancato. Non sempre, perché su alcune cose che hai detto io rivendico di aver votato in un certo modo, perché sicuramente è, ma su altre non è così. Quindi se c'è una coscienza critica, io mi troverei a disagio, come in certi momenti mi trovo a disagio in questa coalizione che governa l'Umbria, ma mi troverei altrettanto a disagio, forse di più a disagio, con l'aggravante che sulle politiche sociali probabilmente la penseremmo diametralmente, in maniera diametralmente opposta, mi troverei altrettanto a disagio in una coalizione di centrodestra e sentirmi accumunato a quelle file. Perché sui fondamentali la coalizione di centrosinistra, il governo di centrosinistra, quando ha avuto bisogno di un aiuto, l'ha sempre trovato. Su questi fondamentali, non su altre cose, ma sulle politiche di indirizzo fondamentali, non è mai mancato. 30 secondi, Lignani, così cambiamo argomento, poi se vuole... Bisogna distinguere, perché io rivendico su alcune situazioni, come il tabacco, l'E45, di aver votato nella direzione che il collega Dottorini ha denunciato, ma sempre perché bisogna valutare l'impatto e nell'immediato e nella prospettiva futura. Non esiste un futuro bucolico e chiaramente non viviamo fuori dal mondo. L'E45 autostrada, e chiudo qui per fare l'esempio, ma ci rendiamo conto che non si può continuare a dire no, l'autostrada sia la messa in sicurezza, ma i quattrini chi li mette? Non si possono prendere in giro i cittadini così. Ci vogliono soldi, i soldi ce li hanno i privati, i privati esigono alcune questioni e bisogna fare in qualche modo un'arteria che dia possibilità di sviluppo. Chiediamolo non ai grandi imprenditori, ma ai piccoli imprenditori, agli artigiani e ai commercianti cosa ne pensano di queste cose. Se vogliamo chiudere Baracca e Burattini, facciamolo pure, però non possiamo farlo dalla sera per la mattina. Se vogliamo riconvertire nella direzione in cui il collega Dottorini dice, bisogna pensare a un arco temporale molto più vasto e vedere degli step di realizzazione. Altrimenti ci sarà solamente il deserto e la povertà. Ecco, sull'Ai45 era una delle domande previste sulle infrastrutture viarie. Nella programmazione futura spicca indubbiamente questa della trasformazione a livello infrastrutturale in autostrada dell'Ai45. ha espresso e ha sottolineato poi anche quanto detto in Aula e in altre situazioni, lignani e marchesani in contrapposizione con la linea Dottorini. Io non voglio sottolineare l'impatto ambientale che avrebbe un'opera di queste dimensioni. Lo ricordo, si tratta di un'opera dell'ammontare di 10 miliardi di euro, 20 mila miliardi delle vecchie lire. non voglio sottolineare questo. Sottolineo però perché poi i privati hanno fatto i conti e investono, avendo indietro in questo caso il pedaggio da parte dei cittadini e i conti che noi abbiamo in mano ci dicono che il pedaggio da città di Castello a Perugia sarebbe ad esempio di 7,60 euro andata e 7,60 euro e ritorno per un pendolare. Da Perugia a Terni parliamo, siamo sui 15 euro, da città di Castello a Terni poco meno di 20 euro. Voi capite che l'impatto che avrebbe questo sulle famiglie è sulla imprenditoria, ma quella vera, quella del padroncino che deve percorrerla tutti i giorni perché deve consegnare una merce, è questo l'impatto che avrebbe. Il tutto in un'arteria che per l'Umbria è fondamentale, che serve un traffico soprattutto locale, che serve un traffico al 70%, ci è stato detto dall'assessore, un traffico locale e quindi i locali non potranno essere esentati come gli viene raccontato, anche perché il privato lo dice chiaramente, nessuno sarà esentato e perché il conto finale dovrà essere quello. Ora mi domando, ma noi abbiamo bisogno di questo intervento oppure basterebbe che venisse messa in sicurezza con i fondi, ad esempio, che lo Stato destinerà alla desfiscalizzazione. È vero che non è denaro fresco è vero che è una non spesa piuttosto che un intervento che viene messo in campo, ma lo Stato con un intervento molto inferiore potrebbe mettere in sicurezza questa arteria che, ripeto, è fondamentale per l'Umbria, non ci sono alternative e investire invece sulle opere utili e le opere utili sono ad esempio il fatto che noi abbiamo una ferrovia che è praticamente diventata una ferrovia da far west, quasi un ramo secco per la nostra regione che potrebbe avere un futuro solo se collegata alle grandi reti nazionali. Questo è quello che serve. Non un'arteria, tra l'altro lo sapete, in tutti i lotti del lavoro sapete da dove partirà il privato, dove pensa di partire dall'Umbria perché è già realizzata. Sapete il tratto di Vergereto che è quello che necessiterebbe veramente di un intervento a che punto viene degli interventi per ultimo perché il privato interviene già dove l'arteria è pronta per fare pagare il pedaggio e riverserà su noi anche la messa in sicurezza di quei tratti. Liniani questa è la disamina ai dottorini sulle infrastrutture sulle opere infrastrutturali in Umbria soprattutto sulla E45 la trasformiamo proprio in domanda specifica anche per lei così ha il suo tempo per rispondere ci ha detto anche ci ha dato anche dei parametri interessanti delle notizie interessanti ma guardi la battaglia sul pedaggio è sicuramente una battaglia che va fatta non nella direzione fasulla che dice l'assessore Rometti che dice che i residenti verranno esentati questo lo sappiamo bene che non è vero è inutile e io non amo prendere in giro le telespettatrici e i telespettatori bisogna però prevedere dei sistemi di pedaggio che possano chiaramente gratificare anche una migliore messa in sicurezza attuale della strada perché oggi parliamo di una mulattiera quante gomme massacriamo quante buche prendiamo quanti ammortizzatori usuriamo in una strada che non è più degna di una potenza industriale del primo mondo siamo veramente a livello del secondo mondo e mezzo e non possiamo certamente andare avanti così e quanti costi aggiuntivi ci sono anche in termini di incidenti di vite umane di asfalto che non va bene è questo che deve garantire in qualche modo l'autostrada l'impatto ambientale non è vero perché l'impatto tutti sanno che con il pedaggio molto traffico che oggi passa per la E45 traffico pesante ritornerebbe sull'autostrada del sole quindi noi sicuramente decongestionerebbero questo tipo di tratto ma soprattutto abbiamo bisogno di un'arteria degna di questo nome per favorire di nuovo un flusso commerciale degno di nota perché le nostre imprese anche quelle e lo dico con cognizione di causa che stanno vicino all'arteria la E45 pensiamo alle nostre zone industriali dell'Alta Valle del Tevere stanno soffrendo in maniera pesantissima hanno bisogno di una strada e di un'arteria molto più competitiva sulla ferrovia mi trovi sicuramente d'accordo collega Dottorini ma il problema è che anche in questo piano di trasporti come in quelli passati che mi risulta tu abbia votato forse ti sei astenuto ecco non lo so si vedeva si vedeva chiaramente il depauperamento del servizio su ferro rispetto a quello su gomma oltretutto con investimenti criminali abbiamo visto 4 minuetti da 21 milioni di euro portati al massacro una elettrificazione lasciata a se stessa per un ritorno al diesel il fatto che sono state fatte politiche sbagliatissime tra la fine degli anni 90 e primi anni 2000 quando si è preferito costruire un mini metro rispetto a quello rispetto a fare un raccordo tra Perugia-Fontiveggia e Perugia-Sant'Anna il raddoppio tra Perugia-Sant'Anna e Perugia-Ponte-San Giovanni per fare una metropolitana di superficie i tratti come erano negli anni 50 e 60 di collegamento con le aziende concludo per ripristinare un traffico di natura merci che invece è completamente sparito e tutte queste cose addirittura c'è una azienda leader a Città di Castello che fa carrelli ferroviari che si trasferirà nell'immediato a indicatore vicino all'alta velocità perché a Città di Castello non gli è stato dato terreno e una bretella alla nostra sfettica ferrovia che sarebbe stato sufficiente per loro per rimanere in loco mi sembra che siate abbastanza vicino su molte cose al di là se non sul fatto che però in 30 secondi da te tranne l'AE45 sì tranne l'AE45 ma quello è un elemento fondamentale anzi io invito chiunque ne abbia possibilità a sottoscrivere la petizione che il comitato contrario all'AE45 ha promosso perché questo avrà un impatto pesante sulle nostre famiglie e noi anche nel nuovo piano dei trasporti non rispondiamo a una domanda fondamentale come mai l'Umbria è ai primi posti in Italia mi sembra sia seconda in Italia il rapporto fra auto e abitanti vuol dire probabilmente che occorre rivedere radicalmente questo e io dico di più sull'AE45 autostrada l'unico varco che meriterebbe un pedaggio sarebbe il verghereto per rimetterlo in sicurezza perché quello è veramente un tratto che grida vergogna ma invece non avverrà così metteranno prima partiranno dall'Umbria e quindi perché è da qua che il privato dovrà lavorare meno e incassare di più chiarissimo allora entriamo in un altro argomento che riguarda scusate ma purtroppo dobbiamo correre vedete il tempo due domande importanti da fare la sicurezza e soprattutto la ludopatia sono state approvate ieri oggi è il 30 settembre ci stiamo a questa trasmissione di martedì mattina ieri in terza commissione cioè lunedì 29 è stato approvato con voto bipartisan un progetto di legge una proposta di legge unificata che arriva da tre iniziative di Monacelli Udc poi di Dottorini e poi di Zaffini Lignani e Desio di Fratelli d'Italia Mantovani Moni e Rosi del nuovo centrodestra per il contrasto al gioco d'azzardo patologico particolarmente ve ne parliamo di ludopatia soddisfatti di questo passo Dottorini? Sì molto soddisfatti mi fa anche piacere perché su questi temi non c'è nessun timore a trovare intesi bipartisan anzi sono benvenuti al fatto che siano proposte che provengano sia dalla mia schieramento politico da quello appunto di centrodestra molto soddisfatto perché questa è una vera e propria piaga sociale ci sono sono a conoscenza tutti siamo a conoscenza di famiglie messe sull'astrico grazie a questa dipendenza una vera e propria dipendenza una tossico dipendenza al pari delle altre in Umbria si stima che siano circa 2 milioni ogni giorno i proventi che derivano dal gioco d'azzardo è singolare che lo Stato in qualche maniera si sia fatto biscazziere lo dico fra virgolette perché a sua volta guadagna dalle disgrazie dalle sventure altrui questo è un elemento che rovina è in grado di rovinare intere famiglie ora il fatto che si intervenga nei margini che riusciamo a intervenire perché sono abbastanza ridotti se non altro premiando quei gestori che decidono di liberarsi delle macchinette intervenendo e riducendo intervenendo sull'IRAP e riducendogliela io penso che sia uno degli elementi significativi di questa proposta ritengo anche che non sia risolutiva del problema perché è il problema per Marra ma diciamo che nell'ambito delle nostre competenze insieme siamo riusciti a dare una risposta bene Lignani questa volta condivido in toto certamente più che altro un messaggio che diamo che diamo alla gente per farci carico di essere classe dirigente ma che vorremmo dare anche al Parlamento e al Governo perché non è accettabile uno Stato che appunto lucra sulle disgrazie altrui non è accettabile che un pensionato ridotto allo stremo quando va a ritirare la propria pensione il primo del mese si trova allo sportello postale in bella mostra tutti i gratte e vinci come via di fuga privilegiata per poter risolvere i propri problemi non è accettabile che in un tempo di crisi si favorisca anche con pubblicità schifose su cui lo Stato investe chiudendo con il classico gioca consapevolmente che è qualcosa di estremamente ipocrita come bevi poco è la stessa faccenda chiaramente tutte queste cose non vanno bene devono essere in qualche modo contrastate e in questo caso mi pare di dire che la classe dirigente regionale ha dato un segnale di maturità molto più ampio di una classe dirigente nazionale che anzi permette a società che gestiscono slot machine di evadere miliardi di euro perché di questo stiamo parlando queste quanto devono allo Stato e non si capisce perché queste cose non vengono contrastate e chiaramente ci sono grandi interessi dietro soldi che girano corruzione neanche troppo latente ma su questo bisogna intervenire perché ne va assolutamente dell'etica ma anche del futuro anche dei costi per il cittadino per quanto riguarda la sanità perché poi curare queste patologie come la ludopatia insomma non è cosa semplice abbiamo 5 minuti e mezzo e c'è un tema che sta chiaramente in prima pagina nella vostra agenda che magari interessa meno i cittadini però lo è lo stesso è la legge elettorale regionale come la vorreste e come credete possa essere alla fine della discussione del confronto politico all'interno della commissione e quindi anche in aula come possa uscire insomma alla fine sarà come la prevedete oppure no dottorini questo non lo so temo che non sia esattamente come come la vorrei io io la vorrei che fosse che individuasse con chiarezza le coalizioni la maggioranza e l'opposizione ed esse la possibilità a chi vince di governare e allo stesso tempo vorrei una legge che fosse il più il quanto più possibile rappresentativa di cosa si muove nella società c'è un processo che è partito ormai anche questo da un decennio da da Veltroni che fa l'accordo con Berlusconi e da Veltroni che dice il PD è un partito a vocazione maggioritaria che tende a tagliare tutti i rami della pianta e per andare verso un bipartitismo ecco io penso che questo processo stia fallendo sia fallito miseramente che le contraddizioni che erano interne ad entrambe le coalizioni siano emerse il fatto ad esempio che nella coalizione di centro-sinistra non esistano più tante forze politiche che prima erano presenti non ha portato a migliorare la situazione perché oggi mi sembra che non c'è situazione peggiore di questa di quella che stiamo vivendo e tutte le contraddizioni dalla coalizione sono entrate dentro un partito che è il Partito Democratico che in realtà non è che un quacervo di mille sensibilità che prima erano in una coalizione adesso sono in un partito quindi bisogna a mio avviso elaborare una legge che sia rappresentativa di il più possibile di ciò che si muove nella società e che quindi dia spazio anche a delle forze che una volta garantito un minimo livello però sono rappresentative di pezzi di società altrimenti non è facendole fuori che si risolve il problema perché da qualche parte le sensibilità riemergono ricordiamo che da 30 consiglieri si passerà a 20 quindi anche questo è un elemento che va nella direzione che dice infatti volevo soltanto sottolineare allacciandomi alla sua riflessione Lignani guardi è in atto un processo di criminalizzazione delle regioni in parte giustificato perché lo spettacolo dato non è stato sicuramente il migliore però non si capisce perché un governo incapace quando si trova in difficoltà trova il capo espiatorio nelle regioni fa occupare da giornali accondiscendenti intere pagine sugli sprechi delle regioni nessuno parla dei signori parlamentari che sono nominati non hanno preso un voto godono di privilegi nemmeno paragonabili rispetto a quelli dei consiglieri regionali e quelli nessuno li tocca bisognerebbe fare un tavolo per moralizzare l'intera politica e non solamente una parte la legge elettorale in quanto tale non mi appassiona dico solamente due cose perché che forse anche il non addetto ai lavori può capire bene io sono contrarissimo alla preferenza di genere che invece verrà messa perché mettere un uomo o una donna per forza significa drogare il consenso noi troveremmo uomini ma anche donne con tanto consenso che non trovano il partner che magari gli dà il partito che rimarranno fuori rispetto a persone completamente prive di consenso che invece verranno cooptate con questo sistema della doppia differenza una cosa che grida assolutamente vendetta al cielo altra questione bisogna eliminare che il candidato perdente delle coalizioni venga automaticamente eletto in consiglio regionale se vuole essere automaticamente eletto si candidi anche a preferenza così come avveniva nel 1995 perché bisogna candidarsi per governare e non bisogna candidarsi per avere un posto garantito al sole troppe volte nel passato sono state candidate persone che garantivano un'onesta sconfitta solo perché si garantivano il posto e l'andazzo che il centrodestra sta mettendo in questi mesi è lo stesso facciamola finita ma non solamente per il bene della classe dirigente del centrodestra ma dell'intera regione competizione per governare e non per garantire sacche e rendite di posizione allora siamo davvero alla conclusione vuole aggiungere alto dottorini in 10 secondi su questo argomento io dico che veniamo da una vecchia legge che abbiamo definita il porcellum umbro perché appunto consentiva a un listino di essere eletto senza avere preferenze beh uno degli elementi che dovrà esserci sicuramente è che non ci siano rendite di posizione e quindi che tutti vadano a cercarsi il voto tra la gente chiarissimi entrambi allora in conclusione posso chiedervi il vostro futuro politico dato che si comincia un attimo a vedere anche quello che sarà dopo il 2015 cominciamo ma io guardo con serenità al futuro certamente ognuno di noi ha le preoccupazioni certamente ognuno di noi piacerebbe bisogna dirlo chiaramente stare nella prossima assemblea legislativa perché sarà un'assemblea particolare di solo 20 persone che leggerà senatori e quant'altro però da un lato decideranno gli elettori se deciderò di candidarmi sicuramente sarò in campo se ci sarà un progetto alternativo serio se devo vedere lo spettacolo di questi giorni certamente non credo anch'io sono molto sereno nell'immaginare il mio il mio futuro penso che avrà un senso continuare a impegnarsi in politica se ci sarà la capacità di intercettare le sensibilità del mondo civico della nostra regione senza dover necessariamente passare sotto le forche caudine dei partiti che in questi anni hanno ingessato molto il nostro sistema quindi la sigla IDV non ci sarà per quanto la riguarda insomma ma penso che IDV per quello che io posso saperne penso che non ha alcuna ambizione non avrà alcuna ambizione di presentare il proprio simbolo ma non voglio rispondere per altri il mio ruolo è abbastanza marginale bene vi ringrazio per mezz'ora abbastanza viva per aver toccato anche argomenti molto importanti per questa regione grazie ad Andrea Lignani Marchesani Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'assemblea legislativa Luiviero Dottorini IDV e presidente della prima commissione consigliare l'appuntamento è alla prossima settimana e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti